guardate che enorme blocco di calcine benzonato meraviglioso ci sono dei buchi perché qua c'è una cristallizzazione e qua è la parte per lo più massiva ma c'è pure qua un po massivo ma c'è una fessura con qualche piccola cristallizzazione faccio qualche foto pure qua dove c'è tutto questo blocco qua incredibile no? tutto un blocco materiale di scarto di questa cava grazie